Ciao, io sono Sonia. Qual è il mio ruolo in Dancing Room? Sono insegnante e coreografa di danza contemporanea a livello open, quindi aperto a tutti. Come gli altri insegnanti svilupperò il mio percorso in pacchetti mensili. Li potete trovare sul sito www.dancingroom.com e troverete anche già la lezione welcome gratuita del mio stile. Cosa aspettate? Cliccate! Ciao!